Buone notizie per chi sognava una tregua dal caldo. Secondo le ultime previsioni meteo, presto Lucifero abbandonerà il centro-sud e le temperature si abbasseranno in tutta Italia in alcune zone sino a meno 10 gradi. Merito dell'anticiclone africano che al nord ha già iniziato a portare temporali e rovesci diffusi alimentati dalle correnti atlantiche. Il caldo ha dunque le ore contate. I venti di Maestrale e Libeccio soffieranno sulle zone tirreniche abbassando le temperature e favorendo temporali soprattutto nell'area settentrionale. Previsto un calo termico anche nel basso tirreno mentre l'unica città in cui l'afa continuerà a persistere sarà Catania. I cambiamenti maggiori comunque si avvertiranno già nelle prossime ore quando le temperature crolleranno di 10 gradi anche se non si verificheranno come al nord particolari rovesci. All'estremo sud, assicurano i meteorologi, l'aria calda continuerà a circolare ancora per molto. Oggi sulla fascia tirenica nubi sparsi alternate a schiarite per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 23,2 gradi, la minima di 17,9. Lo zero termico si attesterà a 3.945 metri. I venti al mattino assenti o deboli al pomeriggio saranno moderati e proverranno da ovest a nord-ovest. In serata forti raffiche di vento. Attenzione però perché secondo gli esperti l'estate non è ancora terminata. La prossima settimana, subito dopo ferragosto, l'Italia verrà investita da una corrente d'aria calda sub-tropicale proveniente dal Maghreb che porterà una risalita delle temperature oltre i 40 gradi in tutto il centro e il sud.